Carissimi amici, oggi vi farò vedere qualcosa della Puglia della Valle dell'Italia, cioè andremo in firma alla Corotondo. La Corotondo è uno dei posti certamente meno conosciuti in tutta la Puglia, perché ci sono tante altre località ben declamizzate, ma non è da meno, per quanto riguarda bellezza, per quanto riguarda tranquillità, per quanto riguarda arte e anche per la cucina. Infatti ci vedremo insieme, ci saranno ricette, ci saranno quanti tassi con crema di tavola, ci saranno i monti, i miei, di tutto il strano, impresso con il personale, veramente come di più che l'altro è veramente finita. Mi voglio, ciao. La Puglia 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti